Grande fratello VIP 2022-2023-24 gennaio 2023, mezzanotte e 53 e 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Come anche Gwendalina, è un modo per esorcizzare. Il rapporto con il padre e i pensieri per la sua salute col tempo Edoardo, ha recuperato un ottimo legame anche con il padre. Per la prima volta rivela che il papà è per lui un pensiero costante, per via delle sue recenti condizioni di salite che lo hanno fatto preoccupare. Papà non stava bene, aveva un problema, e ha affrontato un momento difficile, spiega. Mi sono sentito in colpa a venire qui, ma lui mi ha detto vai e segui il tuo sogno. Oggi gli manda una lettera carica di affetto.